Purtroppo voi vi sposate in un anno un po' particolare, però entrerete nella storia, come i pochi sposi che hanno avuto il coraggio di sposarsi nonostante il covid, quindi è un matrimonio a prova di covid. Loro all'inizio mi disse, Don Antonio che succede succede ci sposiamo, per me è stata una bellissima testimonianza di una coppia che pur nella sua gioventù ha avuto la forza il coraggio di dire sì, mi voglio sposare, per sempre. Non c'è! Non c'è! Grazie a tutti. Grazie a tutti.